Con il decreto 203 alcune prestazioni sanitarie saranno completamente a carico del paziente. Nei giorni scorsi si è parlato di un'eventuale sospensione del decreto, tra l'altro già adottata dalle regioni Veneto e Toscana. Assessore, si aspetta una possibile revisione del decreto o sospenderà l'applicazione? Intanto i contenuti sanzionatori del decreto sono stati sostanzialmente elusi da una nota della struttura commissariale abruzzese. È evidente che noi, essendo commissariati, non abbiamo i margini di autonomia per procedere come Toscana e Regione Veneto, però allo stesso tempo nella conferenza Stato-Regioni mi sembra che tutte le regioni, all'unanimità, hanno chiesto modifiche al decreto Lorenzin e quindi credo che ci saranno opportuni cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Assessore, con l'attuazione del decreto invece quali sarebbero i costi maggiori per i pazienti? Ci sono 203 prescrizioni e prestazioni che una volta superati determinati parametri diventano inappropriati dal punto di vista tecnico e a quel punto scatterebbe la compartecipazione del cittadino. Nel caso di specie però è stato eluso questo meccanismo perché non è stato previsto alcun tipo di meccanismo sanzionatorio a carico dei medici che laddove dovessero prescrivere prestazioni cosiddette oggi inappropriate. Polemiche anche sull'ospedale di Ortona nei giorni scorsi? Ma ogni riforma sanitaria, soprattutto sanitaria, porta con sé tante polemiche. In realtà noi stiamo provando a fare un cambiamento che in qualche modo è orientato anche dal cosiddetto decreto Lorenzin, il DM70, ma che nei fatti non toglie alcun postoletto perché noi ne avevamo oltre 3.000 e oltre 3.000 continuiamo a disegnarne nel nuovo piano sanitario. Cercheremo però di dare a ogni presidio ospedaliero o struttura sanitaria una sua vocazione, una sua destinazione perché nella rete, nel piano sanitario ereditato, noi avevamo sostanzialmente gli stessi reparti in tutti i luoghi e questo portava ad avere quegli stessi reparti e bassi numeri e nei fatti una bassa casistica che vuol dire anche minore qualità. Al contrario invece disegnando una rete dove ogni struttura fa una cosa e la fa bene, secondo me anche se c'è da spostarsi un po' di più, sicuramente però c'è da trovare un miglior servizio. Allo stesso tempo tutto ciò va garantito con un'adeguata rete di emergenza urgenza in modo da abbattere la tempistica sulla rete di emergenza urgenza, cosa che sta avvenendo.